Caterina Zanardi, presidentessa della Becquery, oggi è la vostra festa, tanto calore bianco-rosso, un bel abbraccio per iniziare la nuova stagione. Cosa vi aspettate da questo viaggio? Io dico ogni volta che inizia la stagione, cioè ogni volta, la mia seconda è pronti partenza via. Sento il peso, diciamo, di questa partenza, lo sento con un po' di ansia, come credo che debba essere lo sport, è fatto di adrenalina alle stelle. Mi ripropongo un anno ricco di cose interessanti. Sono ragazzi giovani, ho una bella squadra, molto determinati, e quindi ho visto gli allenamenti, sono già da subito molto uniti, e credo che faremo bene. Ce la metteremo sicuramente tutte, questo è un po' scontato, ma vedo una bella energia. Energia dettata da tanti giovani, che è un po' il vostro marchio di fabbrica, la vostra filosofia, che abbraccia poi anche il settore giovanile. Sì, tanti giovani scelti, chiaramente, perché la nostra strada è quella, sia per far crescere i nostri, sia per far crescere quelli che abbiamo chiamato, perché fondamentalmente ci sono già dei ragazzi esperti, che nonostante l'età hanno già ottenuto tappe, hanno già percorso una loro piccola grande strada, però secondo me, e secondo loro, che hanno accettato di venire, il percorso sarà in crescita anche per loro, e sarà costruttivo e formativo. Quindi mi aspetto, già li vedevo durante gli allenamenti, mi stanco a vederli, perché veramente hanno un'intensità molto alta. Grazie a tutti.